Salve e benvenuto o benvenuta a questa lezione sull'utilizzo di PowerPoint nella quale andremo a vedere come intervenire sulla struttura di una diapositiva. Quindi apriamo la diapositiva su cui poi andremo a lavorare e diciamo innanzitutto che quando ad un oggetto si attribuisce l'aggettivo di strutturale vuol dire che si tratta di un qualcosa che non cambia, che fa parte in maniera fondante di quell'oggetto, in questo caso della nostra diapositiva, rispetto a qualcos'altro che invece può cambiare. Quindi noi vogliamo che ci sia qualcosa che non cambi nel caso in cui noi dovessimo fare 10 diapositive all'interno di questo file e qualcosa che invece poi possa cambiare a seconda dell'oggetto che dobbiamo presentare. E' il caso proprio in cui un'azienda per esempio voglia presentare alla clientela dei prodotti è ovvio che ci sarà una parte strutturale della presentazione che sarà il logo dell'azienda, che sarà l'indirizzo dell'azienda con i recapiti e ci sarà invece una parte che cambia perché in una diapositiva si possono presentare le scarpe, in un'altra i cappelli, in un'altra un vestito. E quindi questi aspetti strutturali è bene andarli a mettere nella struttura appunto della diapositiva perché poi lì sarà impossibile cancellarli per errore e in più ce li porteremo dietro qualunque altra diapositiva andassimo a generare all'interno di questo file. E quindi sarà difficile, sarà impossibile modificarli perché dovremo rientrare nella struttura quindi prima eseguendo dei comandi che psicologicamente ci mette nella condizione di pensare attento a quello o attento o attenta a quello che fai. Quindi per entrare nella struttura della diapositiva bisogna cliccare qui su visualizza schema diapositiva. Ecco da qui noi potremmo andare a operare come operiamo nella diapositiva che abbiamo appena chiuso però le cose che inseriremo qui dall'altra parte non saranno più modificabili. Per esempio inseriamo una casella di testo dove andiamo a scrivere recapiti aziendali quindi telefono mail sito web. Clicchiamo sul bordo della casella andiamo in home ci siamo già centriamo tiriamo un po' più giù e poi andiamo a mettere anche un logo aziendale inserisci prendiamo un'icona qualunque tanto no ce ne serve una qualsiasi. Prendiamo questo logo qui e lo mettiamo qui facciamo salva e poi torniamo a cliccare su visualizza e a questo punto diremo torna all'aspetto normale della diapositiva powerpoint. Ecco come puoi vedere come puoi vedere su queste due parti io ci posso cliccare sopra quanto voglio non posso più intervenire appunto faranno parte della struttura della nostra diapositiva e della nostra presentazione perché domani quando andiamo a cioè tra un attimo a presentare un altro prodotto quei dati rimarranno gli stessi e sarà come dicevo prima impossibile a cancellarli per errore quindi posizioniamoci qui selezioniamo la nostra diapositiva ctrl c la incolliamo clicchiamo sotto e quando compare questa riga digitiamo ctrl v per incollarla per avere le stesse proprietà di quella sopra clicchiamo su ctrl e poi sul pennello e in questo caso potremo andare a dire che qui qui l'azienda ha presentato le scarpe ma in quest'altra diapositiva vuole presentare un cappello un cappello che ovviamente avrà un'altra descrizione un altro prezzo un altro costo di spedizione cancelliamo l'immagine delle scarpe e andiamo in home anzi andiamo in inserisci icone cerchiamo cappello eccolo il nostro cappello lo selezioniamo inserisci e qui abbiamo il nostro cappello che come dicevamo prima con un'altra descrizione un altro prezzo altri costi di spedizione ecco come puoi vedere rimane il logo dell'azienda rimangono i recapiti dell'azienda ovviamente questo può essere modificabile e ti segnalo anche che anche nel caso in cui noi avessimo fatto un catalogo di 100 prodotti potremmo sempre andare a modificare una volta soltanto la struttura della diapositiva e dire applica le modifiche che ho fatte a tutte le diapositive quindi vediamolo visualizza schema diapositiva qui scriviamo solo sito web ora soltanto per vedere la modifica facciamo salva ecco che come vedi la modifica non è stata portata soltanto alla prima diapositiva ma anche alla seconda se ce ne fossero state 100 questa modifica alla struttura della diapositiva che è la parte che deve rimanere sempre uguale appunto le modifiche si sarebbero riversate su tutte e 100 le diapositive ti aspetto alla prossima lezione ciao